Il pentagono data la circonferenza. Traccia una circonferenza con centro O e traccia due diametri perpendicolari tra loro. Trova il punto medio M di uno dei raggi orizzontali. Puoi trovare facilmente M misurando i segmenti con le squadre o utilizzando la costruzione dell'asse del segmento. Punta il compasso in M e apri fino a A, estremo del diametro verticale. Realizza un arco. Smetterai di tracciarlo quando incontrerai il diametro orizzontale in un punto che chiamerai H. Punta il compasso in A, apri fino ad H. Capita di sbagliare questo passaggio. L'apertura AH non è uguale a MA. Fai attenzione quando esegui due archetti. Traccia un arco che intersechi la circonferenza nel punto B. Con la stessa apertura, procedi da B a C e da E a D. Congiungi i cinque vertici e avrai il pentagono iscritto. Con la stessa apertura, procedi da B a C